Quando inizio a pensare ad un progetto grafico, parto da qualcosa che ho già in testa, qualcosa che mi ricordo da un cartone animato che guardavo da bambino o un'immagine o un libro comprato tempo fa. Poi da lì provo ad ampliare le mie sensazioni tramite ricerca e prove. Continuo a ragionare mentre vado in bici. Infatti ho iniziato ad andare in bici proprio perché avevo bisogno di tempo da solo per pensare, per togliermi dall'inquinamento della città e stare nella natura. Soprattutto mi piace lavorare con i limiti, limiti di tecnologia o del supporto, girandoci intorno, facendo sì che sia il limite stesso a generare la bellezza del risultato finale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.